I got options, I can pass that bitch like Stockton E questo qui, che vedrete qua dietro, e a breve ve ne parlerò e partirà sicuramente qualche clip, qualche video E lo sponsor di oggi, ovvero l'Xbot Go AI Sport Gimbal Cosa vuol dire? Vuol dire uno stabilizzatore, Xbot Go è la marca, è il nome dell'app, ve lo dico già Ma con la potenza dell'IA integrata Il che lo rende molto più interessante dei classici stabilizzatori Di cui ce ne sono, ne ho un altro qui sotto e il mercato ne è pieno Perché vi dico questo? Perché io era un po' che cercavo una cosa del genere Per me fare video in palestra, sia da solo ma anche con i ragazzi che tendenzialmente sono tutti impegnati assieme a me Come protagonisti del video, risulta difficile o costoso avere una regia O anche quello che può essere simile a un'ergia, banalmente qualcuno che giri la telecamera Mentre l'azione va avanti o la partita si muove o la sfida, la challenge, quello che può essere Bene, questo dovrebbe risolvere gran parte di questi problemi E potrebbe essere importante per voi Uno, perché c'è un codice sconto Se avete piacere di dare un'occhiata al sito e magari risparmiare qualcosa per comprare questo aggeggino davvero interessante Due, per i contenuti che arriveranno sul canale Vi faccio vedere adesso una clip veloce di un piccolo unboxing Di quanto è veloce, semplice, veramente a prova di scemo mi verrebbe da dire Impostare e mettere in piedi questo prodotto E poi parliamo meglio dei video in palestra Cerco di essere veloce ma vi faccio vedere quanto è piccola la scatola E quanto è veramente a prova anche di chi non ha mai usato questo genere di cose Usare il treppiede Intanto c'è il telecomandino qui che lo useremo dopo E c'è la base che va arrotolata sotto Si apre e questo lo tiene bello fermo Altrimenti si può appoggiare anche un cavalletto Se ce l'avete c'è il bundle anche col cavalletto Da qui non c'è nessun blocco né niente Si apre, si gira ed è pronto C'è la freccia che vi indica dove mettere il telefono Aprite la morsetta Lo mettete nel mezzo Questo è importante Cercare di centrare il mezzo Ed è pronto Adesso basta premere il tasto on Pronti Questo è quello che teniamo in precedenza quando dicevo che si può montare sul cavalletto Perdonate il casino sto rifacendo lo studio Questa è l'app Come vedete io ho già collegato i due dispositivi Ma basterà andare a cliccare qui Qui vi apparirà e lo connetterete Click to connect sulla destra Stessa cosa si può fare con il remote Noi lo andiamo ad accendere Ed è quello qua che appare Lampeggia di rosso Click to connect E ce l'abbiamo Connected Da qui come vedete andando su questo tastino qua partiranno le varie opzioni di registrazione E ci sono diversi sport Calcio, basket, football, hockey, tennis e handball Potremmo dire pallamano o pallavolo Non l'ho provato Non so quale funziona meglio Io ho provato principalmente i primi tre Follow me, soccer e basketball Vedrete qualche clip poi durante il video E questa è la schermata poi una volta scelta la modalità Si potranno andare nelle impostazioni Aggiungere addirittura un punteggio Andare in live mettendo il login ovviamente ai propri canali Facebook, YouTube e Twitter se non sbaglio sono appoggiate Il timer che vedete qui ed è quello che avete visto negli altri video si può togliere Questo logo dell'Xbot Go qui sotto che l'avrete visto anche negli altri video non si può Ora che avete visto quanto è facile impostare il nostro stabilizzatore Sono andato ovviamente con i ragazzi a provarlo in palestra E quello che ho visto è stato assolutamente interessante Staranno passando le clip L'ho messo alla prova in maniera piuttosto dura Cioè nel senso provando anche a mettere la modalità follow me Quando entrambi Fury e Trevor stavano tirando nella stessa metà campo anche i vincini tra loro Oppure quando ho messo la modalità basket a tutto campo Per provare a dividere uno dall'altro Uno a metà campo e uno dall'altro Per vedere qual è la soglia di attenzione diciamo così dell'IA Per quanto riguarda la questione follow me del Trevor Come vedete c'è anche la questione dello zoom automatico Si può togliere quindi lui secondo il suo ragionamento diciamo così Andrà a zoomare e dezoommare in base all'occasione che ritiene necessaria Ripeto si può togliere e lasciare fisso semplicemente il tracciamento della persona Lo si può fare anche con il numero di maglia Cosa che non ho provato perché non avevamo numeri dietro le maglie Banalmente lo vedete Ha fatto un po' più di difficoltà quando c'erano due persone nelle due metà campo Ma vedete che appena si riunivano E l'abbiamo provato anche in una clip tutti e tre Il movimento della telecamera era assolutamente regolare Tralasciando la tecnica di tiro del Trevor Ovviamente io l'ho preso per la palacanestro Perché è quello il mio ambito di conoscenza Ma ci sono tutti gli altri sport E vi metterò magari qualche clip Di quelle che mi sono state mandate In maniera da provare a dare un'occhiata Come potrebbe essere il resto degli sport Come avete visto ce ne sono diversi Nella speranza che vengano implementati sempre di più Ma all'interno di essi come per la palacanestro C'è il metà campo, tutto campo Under 14, over 14 Stessa cosa per il calcio ho visto E probabilmente anche per qualche altro sport Una feature assolutamente molto molto carina Che negli altri stabilizzatori che ho È molto complicata da ottenere E la possibilità come vedete di passare Dal verticale all'orizzontale Premendo un tasto in 3 secondi Praticamente È sicuramente uno strumento vaido Ma forse avrebbe bisogno ancora di qualche perfezione Per fortuna più di software Che effettivamente di hardware E questa è una cosa positiva Perché è molto più difficile cambiare l'hardware Che il software dell'app I video in verticale Vengono fatti in verticale Ma vengono poi salvati nella tua galleria in orizzontale Ed è una cosa che non capisco Perché pensavo di sbagliare Io ho provato a cercare tutte le impostazioni possibili Io non ho trovato come metterli in orizzontale Da orizzontale a verticale Vanno girati poi nel modificatore video Però nel 2024 Ecco insomma Sarebbe anche carino averli subito in verticale Ovviamente in verticale funzionano però Tutte le feature di cui vi ho parlato prima In orizzontale E questo anche per le vostre dirette I vostri video Quello che può essere del campetto Delle partite di campionato Per farvi vedere al nonno Se andate a fare le finale nazionali Dall'altra parte d'Italia È sicuramente sensato Per il resto ne vedrete nella belle Perché le cose che mi sblocca creativamente Anche di poter fare questa cosa qui Con l'IA Invece che avere qualcuno Detro la telecamera Sono tante E non vedo l'ora di farvi vedere Quello che si può creare Con il nostro stabilizzatore E vi ricordo ancora una volta Che potete acquistarlo anche voi Con il 10% di sconto Con il link in descrizione Dove ovviamente Aiutate anche me A mandare avanti il canale Oltre che voi a risparmiare qualcosa Ci sono vari bundle Date un'occhiata Basta che mettete Schiacciate il link E usate il codice sconto Tutto spiegato in descrizione E adesso però vi lascio Un momento più atteso del video Quello della challenge La 60 second challenge Diciamo così In cui come sempre Sono successe cose Incredibili Perché comunque Ogni volta che mettiamo piedi in palestra Succedono cose ambigue In questa sfida Ogni giocatore avrà 45 secondi Per tirare da sotto Che vale 1 Dal tiro libero Che vale 2 O comunque da sopra La riga della pallavolo gialla Che vale 2 E da 3 Che vale 3 Non potendo fare Due volte consecutive Lo stesso tiro E cercherà di fare Più punti possibile Lo faremo una volta a testa Chi va a più punti Vincerà la sfida Lasciate un mi piace Provate a indovinare Prima della gara Chi vincerà secondo voi Iscrivetevi E date un'occhiata Alle info in descrizione Che vi parlavo prima 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 11 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 16 14 14 15 15 14 Sì! 3, 2, 1, vai. Guarda che pollo fico che fa solo 1 e 2. Fa solo 1 e 2. Non fa... 9, 10. E di ok, solo 1 e 2 così. Veramente vergognoso. Cioè dovresti essere bannato da questo. Facciamo in me quando ti segni un'autotrasse. Finito, fine, fine. Nonostante i tentativi disperati di Diamante di cambiare il punteggio, ho vinto questa sfida. Signori, grazie per essere andati fino in fondo. Alla prossima.